Ho trovato su internet questa immagine con letteralmente migliaia di like e condivisioni. Leggiamola tutti quanti insieme. L'uomo di oggi ama essere corteggiato, cercato, e nel momento in cui lo cerchi, magicamente sparisce. Tu pensi, forse è timido o forse non gli piaccio? No, è solo un coglione. Analizziamo questa frase con molta calma. Ovviamente è una frase di una donna nei confronti di un uomo. Qual è il problema che c'è alla base? È che esistono due tipi di seduzione, molto diversi fra di loro. La seduzione attiva e la seduzione passiva. La seduzione attiva è vedo una ragazza che mi piace, mi avvicino e le dico Ciao, ti ho notata, mi chiamo Luca, piacere. Seduzione attiva, faccio qualcosa. La seduzione passiva è nella speranza che qualcuno faccia qualcosa nei miei confronti, si venga a presentare ad esempio, metto in moto dei meccanismi di attrazione. Seduzione potrebbe essere uno sguardo, un avvicinamento prossemico, ma in realtà non mi propongo attivamente. La seduzione attiva è sono io a inviare il messaggio. La seduzione passiva è, che ne so, faccio vedere che sono online nella speranza che mi venga mandato un messaggio, per fare degli esempi. Storicamente nella nostra cultura il ruolo attivo ce l'ha avuto l'uomo, il ruolo passivo ce l'ha avuto la donna. Per fortuna queste cose stanno cambiando, perché le persone sono tutte quante diverse. Quindi esistono delle donne più attive, degli uomini più passivi, ed è bello che finalmente la nostra cultura accetti il fatto che queste persone esistono e si possano incontrare. Il problema quando nasce? Quando una donna decide di avere un atteggiamento più attivo, ma dall'altra parte si aspetta che l'uomo non abbia un atteggiamento passivo, che comprende la fuga. Gli uomini ci sono abituati da bambini. L'uomo insegue e la donna fugge. Fa parte del gioco. Le donne che invece in questo momento stanno iniziando per fortuna ad affacciarsi a questo nuovo tipo di comportamento, rimangono stupite che un uomo possa fuggire. Perché culturalmente l'uomo è sempre disponibile. L'uomo ha sempre voglia. L'uomo ha sempre desiderio di stare con una donna. E nel momento in cui non ha un desiderio, è strano. Dobbiamo uscire dall'idea che la dinamica di inseguimento fuga sia una dinamica maschio-femmina. È una dinamica umana, anzi è una dinamica di tutto il regno animale. E dobbiamo uscire anche dall'idea di poter avere soltanto un ruolo. O sono cacciatore o sono preda. Nello stesso momento, con la stessa persona, noi possiamo essere sia seduttori che sedotti. Anche all'interno di una stessa conversazione possiamo cambiare il ruolo più volte. Dobbiamo però, allo stesso tempo, accettare il fatto che nel momento in cui decidiamo di inseguire, l'altro probabilmente inizierà a fuggire.